Buongiorno a tutti, io ringrazio e saluto i spieghi e i colleghi che qui sono intervenuti e mi scuso i relatori del prossimo panel per l'attesa. Proviamo a fare una sintesi, abbiamo scritto che sostenibilità, innovazione e finanza sono i principali driver per guidare il cambiamento e abbiamo parlato finora del cosa e del come anche attraverso la disamina di alcuni casi pratici e adesso ci concentriamo su chi, ovvero sulle caratteristiche distintive di coloro che sono e saranno leader del cambiamento. Ne parliamo nel panel di Uskins Lavoro Futuro con la professoressa Matti Depini, professoressa di Statistica dell'Università di Roma, Presidente dell'Organo di Contrazione Istat, con la dottoressa Alessandra Lighi, direttore esecutivo dell'Università Europea di Roma, che è referente aria militare dell'Istat, con Claudio Fiaschi, portavoce del forum del terzo settore, con la dottoressa Manuela Faravelli, partner e co-founder di HumanAge, e in fondo solo per galanteria, solo per lasciare spazio alle donne, l'avvocato Paolo Quattrocchi, co-founder di MCPM Studio e, come abbiamo visto prima, anche fondatore e direttore del Centro di Humanità Canada e dell'Osservatorio CETA. Colgo l'occasione per salutare anche la dottoressa Lodiana Ferrara, che è stata libera del Master di Eventi o di IDM, che purtroppo non ha potuto partecipare. Voglio introdurre i lavori chiedendo alla dottoressa Manuela Faravelli un intervento, prendo ispirazione da quello che tanto tempo prima disse Seneca, Seneca ha detto che il gladiatore decide da farsi nell'arena. Stando a questo, quali sono le capacità che oggi i venditori e i manager di successo devono avere per gestire e guidare il cambiamento, anziché restare vittime? Buongiorno a tutti, grazie Alessandro intanto per avermi invitato a tutti voi e per questa domanda. Allora, io ho ascoltato con molta attenzione e con molto interesse, devo dire, quello che è stato detto, e riassumevi tu stesso che il light motive è proprio appunto il cambiamento, abbiamo parlato molto di innovazione, abbiamo parlato di un cambiamento di prospettive, per far sì che la sostenibilità non sia soltanto un modo per mettere una pezza agli errori, è stato detto, ma sia un nuovo modo di fare impresa in qualche modo, in cui appunto gli errori non si commettono e l'impatto invece è parte integrante delle strategie. Allora, tu hai fatto una citazione e piacerebbe iniziare anche a me con una citazione, cito però Tolstoi, che ha detto che tutti pensano di cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso, no? Quindi il tema qua è proprio questo, no? Vivere il cambiamento, cambiare le prospettive anche delle organizzazioni, non può non partire dagli individui, no? E dai loro comportamenti, perché noi parliamo di trasformazione organizzativa, ma le organizzazioni non sono degli esseri viventi che cambiano da sole, ma sicuramente sono guidate da persone, da uomini, no? I manager e gli imprenditori. Allora, la domanda che dobbiamo porci è come devono cambiare queste persone, no? E quali sono le competenze da mettere in atto? Io e i miei colleghi recentemente abbiamo davvero dedicato parecchio tempo a questo aspetto, perché occupandoci di persone e di sviluppo ci siamo chiesti, ma quali sono i modelli di riferimento, no? Perché le persone crescono e continuano a svilupparsi in un mondo che cambia. E cambia in generale, e poi se parliamo di sostenibilità e di economia circolare, il cambiamento è ancora più evidente. E quindi quali sono un po' i punti di riferimento verso i quali dobbiamo cercare di far crescere le persone. E facendo un po' di analisi appunto ci siamo accorti che le tendenze principali rispetto alle competenze vanno in alcune aree molto ben definite. Da un lato c'è, e quella c'è un po' sempre stata, ma ancora più forte, l'attenzione all'area del pensiero. Ossia tutte quelle capacità che riguardano il pensiero strategico, il pensiero laterale e l'innovazione, no? Abbiamo sentito parlare molto in tutti gli aspetti che sono stati trattati stamattina di innovazione. Quindi la capacità di generare idee e anche di cogliere, no? Leggere le idee che ci sono intorno a noi è un elemento fondamentale. Ma anche un tema di pensare in un modo diverso e di vedere in modo strategico. Quindi quel famoso passaggio dal breve termine al lungo termine. La strategia vuol dire capire cosa succederà poi, no? Pensare non soltanto a un risultato di breve, ma a un risultato di medio-lungo periodo. Un'altra area importante è un'area di relazioni. Però più che parlare di relazioni, che è quello che ne abbiamo sempre un po' parlato, io credo che oggi dobbiamo parlare di connessioni. Cioè la capacità di creare connessioni. Anche questo è un tema che è emerso questa mattina, un mondo interconnesso dove la tecnologia sicuramente aiuta a creare questi legami. E quindi un manager o un imprenditore deve saper fare sinergie, per esempio, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. Perché le soluzioni appunto nuove, diverse, che cambiano completamente il modo di fare impresa, non possono venire soltanto da un'auto celebrazione guardandosi all'interno, ma anche guardando all'esterno, creando alleanze in qualche modo, no? rompendo i silos all'interno delle organizzazioni. Perché la soluzione, se ognuno guarda il suo orticello, non arriveremo mai a questa idea di appunto un impatto che non sia solo sui miei risultati, ma sia a 360 gradi su tutti gli stakeholder. e poi un tema sicuramente di quindi in questo far crescere, no? Un po' dal basso anche le nuove competenze, le nuove idee, quindi coltivare in qualche modo i talenti, no? Quindi una crescita delle persone. E poi c'è un tema, direi, anche di gestione di sé, no? Quindi di flessibilità, perché è capacità di ascoltare, di adattarsi in qualche modo, e di resilienza. Perché ovviamente il cambiamento è impegnativo, no? E quindi bisogna anche avere il coraggio poi di affrontare delle scelte e di prendersi dei rischi in qualche modo. Allora, tutte queste competente, che poi sono capacità, intanto notiamo una cosa, no? Sono piuttosto spostate sul anche saper essere, piuttosto che sul saper fare, che era quello che fino a un po' di anni fa era proprio un po' la leva, no? Su cui ci si basava. E possono essere riassunte anche in una parola, che oggi va molto di moda, ma non una moda, diciamo, frivola, no? Ma perché molti studi stanno proprio riflettendo su questo termine, che è l'umiltà. Oggi si parla di humble leadership, quindi una leadership umile. E questo non tanto per, nell'accezione che può essere, no? Un po' più negativa del termine, ma è un'accezione assolutamente positiva. Contrapponendola quindi a una leadership che è emergente, che è carismatica, no? Il modello che era in voga fino a un po' di anni fa del leader emergente era il modello della Jack Welch, no? Quindi il leader che ha un ruolo preponderante che trascina l'organizzazione. Oggi, invece, il leader cosiddetto umile è un imprenditore, un manager, un leader, appunto, che è capace innanzitutto di farsi delle domande, no? E di mettersi in discussione. Quindi non si fida solo delle proprie capacità, ma fa leva sulle competenze degli altri, di cui questa idea di connessione, in qualche modo. Quindi sa innovare, ma non solo attraverso le proprie idee, ma attraverso l'osservazione di quello che gli accade intorno, no? E quindi aperto al feedback, alle nuove idee. E soprattutto ha il coraggio di sperimentare, senza il timore che questo metta in discussione, in qualche modo, la propria credibilità e il proprio carisma. Quindi l'execution, l'orientamento al risultato, non sono passate di moda, no? Ma sono un po' più un fattore igienico oggi. Cioè che non può realizzarsi, quindi il risultato non ha senso, non è sostenibile, se non ci sono un po' tutte queste altre cose, no? La capacità di vedere, di inquadrare i problemi, di risolverli in maniera innovativa, farlo attraverso le persone, attraverso le relazioni e col coraggio anche di mettersi in discussione e non di essere per forza protagonista. Io direi che questi sono un po' gli elementi dove anche noi, come società di consulenza, cerchiamo comunque di aiutare le aziende a ripensare anche i loro modelli di competenze andando in questa direzione e vediamo che queste sono le tendenze. Chiudo dicendo che anche il World Business Forum, appunto parlando di quali saranno, no? proprio le skill per i nuovi lavori nel futuro, alla fine, poi magari con terminologie diverse, ma proprio sottolineato questi aspetti, no? Quindi in che modo prepararci al lavoro del futuro sviluppando queste competenze e queste caratteristiche. Spero, ho cercato di essere sintetica perché mi rendo conto che siamo alla fine e siamo abbastanza anche fuori dai tempi. Però, qualche domanda, benvenuta. Grazie, grazie dottoressa Faravelli. Io prendo spunto da quello che ho appena detto con l'ottoressa Faravelli, quindi con l'ottoressa Fiaschi. Avremmo quindi capito che il capitale umano determinato è il capitale economico. All'ottoressa Fiaschi chiedo, visto che comunque è rappresentante del terzo settore in Italia e che nel terzo settore è l'elemento umano, ma in centrale, abbiamo visto che le questioni di successo oggi quindi sono sempre più guidate dal valore e si concentrano prima sul perché, sul chi e poi sul cosa, sul come. In che modo in questo senso il terzo settore può essere esempio e anche cucina dei nuovi modelli organizzativi e gestionali? Sì, buongiorno, mi sentite bene? Buonissimo. Il terzo settore intanto è soprattutto un grande movimento di persone. Questo lo dico perché stiamo parlando di 6 milioni di volontari di cui molti sono in età abbastanza avanzata, quindi tendenzialmente sono persone in pensione che però stanno in ottima salute e che quindi sono in grado di dare grande contributo alla società, ma una buona parte di questi sono invece anche giovani. Pensate soltanto al tema del servizio civile che dal 2001 al 2017 ha messo in campo più di 430 mila giovani dentro un'esperienza di impegno civile e a questo si aggiunge una cospicua parte di lavoratori. Si sta parlando di 700 mila lavoratori. Quali sono le caratteristiche di chi si muove dentro questo mondo? Provo a andare per spunti. Intanto gli ambiti di attività. Si muove in tantissimi settori. Chi occupa del terzo settore non si occupa solo di welfare. Spesso viene ingenuamente pensato che il terzo settore soltanto si occupa di salute, di assistenza. In realtà c'è un fortissimo impegno nell'educazione, nel tempo libero, nella cultura, nel settore della cultura ambientale in termini sia di movimento di pensiero, di riflessione, ma anche di costruzione di skill e di competenze. Dei 700 mila addetti che operano nel cosiddetto terzo settore italiano, stiamo parlando di un numero decisamente alto di persone, dobbiamo ricordarci che c'è una grande capacità di includere i cosiddetti soggetti in situazione di svantaggio sul mercato del lavoro. 30 mila di questi lavoratori sono gravemente svantaggiati, per esempio, cioè sono soggetti con gravi disabilità, certificate, che lavorano stabilmente, hanno un reddito e che quindi riducono i costi sociali della nostra comunità, perché oltre ad essere persone più felici, lavorano compatibilmente con il loro disagio, ma generano un valore aggiunto per la collettività attraverso le cooperative sociali di tipo B, che sono un'esperienza tutta italiana, ma di grande prestigio, che ci colloca in Europa tra i soggetti leader sull'inclusione lavorativa attiva dei soggetti cosiddetti deboli nel mercato del lavoro. Allora, rispetto a chi lavora a questo mondo, quali sono gli skill, i cosiddetti soft skill, che possono essere un grande bacino di riflessione e di pensiero. Il primo è quello che queste sono persone che decidono di propria iniziativa libera di partecipare alla propria comunità con un'azione di solidarietà. E il fatto di avere persone che hanno capacità di iniziativa e che provano a cercare soluzioni ai problemi della comunità, fa di questi soggetti i principali innovatori sociali. Lo dico perché spesso all'innovazione sociale siamo abituati a pensare che a vita una, che dal punto di vista del marketing, si vende bene. In realtà l'innovazione sociale sono processi trasformativi della comunità, capaci di gettare le basi di un cambiamento strutturale di lungo periodo. Chiedo che questo richiede problem solving, creatività, pensiero critico, capacità decisionali, che sono tra l'altro tra gli skill fondamentali pensati per chi dovrà impegnarsi nel futuro. Il tema della solidarietà del civismo, intelligenza emotiva, orientamento al servizio rappresentano strutturalmente dimensioni empatiche verso la propria comunità che chi si impegna nel terzo settore non solo ha quando ci accede, ma soprattutto alimenta nel tempo, perché, lo ricordo, nel terzo settore si fa tantissima formazione, formazione che abilita le persone, quindi non forma competenze, ma abilita competenze funzionali alla mission degli enti. l'altra questione sono il lavoro di gruppo, questo incide sia sugli stili di lavoro del management che chi guida le organizzazioni del terzo settore è naturalmente portato a aiutare le persone a riconoscere il valore degli altri e a valorizzare il lavoro degli altri in un lavoro di gruppo dove coordinarsi e coordinare oltre che motivare le persone rispetto alla propria capacità di investire nella comunità è fondamentale. E infine la flessibilità, trasversalmente a tutti questi è una cultura SDGs molto diffusa gli obiettivi di sostenibilità dei 17 goal sono nel DNA di tutte le organizzazioni non sono in termini fattivi di impegno tutte le grandi reti di terzo settore hanno un impegno da una ricerca che noi abbiamo sviluppato su almeno 9 dei 17 obiettivi di sostenibilità tutte ne hanno più di uno e tutte hanno percorsi di consapevolezza motivazionale all'interno su questo tema ma soprattutto diciamo il tema che questa è una cultura diffusa a cui si può attingere quando andiamo a selezionare diciamo delle figure credo che chi viene dal terzo settore abbia uno skill in più diciamo spesso proprio da questo e non sempre soprattutto in Italia si tiene conto di queste diciamo esperienze nell'accreditamento dei curriculum nel portafoglio dei curriculum sottolineo anche visto che è stato toccato più volte che questo è un mondo che ha un suo porto si sta parlando di un mondo da 72 miliardi di valore economico quindi un pezzo di PIL significativo che è in grado anche di aiutare il sistema delle imprese a costruire i TPI legati alla S degli ATG sappiamo tutti come come classificare gli indicatori finanziari di sostenibilità rispetto all'ambiente sappiamo tutti come declinare gli indicatori finanziari di sostenibilità rispetto alla governance un po' meno sia nella nomenclatura europea ma anche nell'esperienza italiana sappiamo invece declinare in modo cogente la questione degli indicatori sociali perché sociale non è solo non fare del male all'ambiente non è solo avere una catena del valore positiva verso l'ambiente o verso i propri lavoratori ma è anche saper riconoscere il proprio contributo nella catena del valore a impatto sociale dentro la propria comunità allora su questo io vorrei sottolineare che il rapporto con il terzo settore può essere la grande via italiana dei partenariati profit e non profit per esplodere questa categoria della S del KPI sociali perché spesso il terzo settore mi sentivo lepo anche nella discussione sulla parte della finanza sostenibile per esempio nel mondo della finanza è vissuto più per quel mercato per la gestione dei patrimoni o per quel mercato del credito laddove quel mercato del credito c'è per esempio dell'impresa sociale ci sfugge il potenziale di lavoro invece per accompagnare con soluzioni di tipo finanziario la costruzione della catena del terzo settore non solo di quello commerciale ma anche di quello non commerciale è un'esperienza che noi stiamo facendo con un pool di banche all'interno dei cantieri viceversa proprio per educare rieducare il nostro sistema ad un dialogo innovativo appunto in quella logica di contaminazione che qualcuno prima ha accennato e che credo sia la strada per costruire un vero impatto sociale anche del mondo delle nostre imprese e non solo ovviamente di quelle finanziarie grazie 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 dottoressa Fiaschi io colgo questa chiusura come un assist per introdurre il nostro relatore abbiamo capito che il terzo settore potrebbe essere un movimento di pensiero è un movimento di costruzione di competenze quindi è un movimento è un settore in cui si fa tanta formazione si investe in capitale umano e a proposito di formazione a questo punto ripeto con l'assist per introdurre la professoressa Vini e la dottoressa Rivi del ministro europeo di Roma per portare la loro testimonianza in ambito informativo e si parla quindi di innovazione di lavoro e di formazione io chiedo a loro qual è il ruolo a questo punto del sistema universitario e della formazione visto che oggi tutti i grandi studenti di management sottolineano l'importanza del bike learning e quindi di come effettivamente si diventi studenti a vita fondamentalmente ecco partendo dal sistema universitario che tipo di contributo vuol dare per esempio come posto per informare anche da questo punto di vista leader del futuro prendo io la parola brevemente per fare un ragionamento e poi se Matilde Vini vuole intervenire naturalmente appena cercherò di essere molto breve allora il mio ragionamento va nella direzione della società dell'apprendimento cioè la riorganizzazione per la sostenibilità e per l'innovazione responsabile diciamo deve svolgersi deve avvenire all'interno di un diciamo un ambiente che è quello di lavoro in cui la capacità di apprendimento deve caratterizzare la trasformazione dei diciamo dei concetti in conoscenza per questo l'innovazione responsabile occorre diciamo richiede che i lavoratori si identifichino il più possibile come appartenenti ad una comunità di conoscenza e riconoscano la conoscenza dell'organizzazione come un patrimonio comune da crescere e da gestire insieme in questo modo l'innovazione che ne deriva è un frutto di un patrimonio comune ciò permette molti diciamo benefici tra cui quelli di ridurre i costi di acquisizione ed utilizzazione delle conoscenze nella creazione delle competenze l'università quindi e la formazione hanno un ruolo molto importante perché debbono promuovere e fornire due tipi di percorsi diciamo diversi ma che si devono diciamo andare a a sostenere l'uno con l'altro da un lato l'università deve fornire strumenti per gestire questa transizione al digitale all'innovazione e formare i giovani che andranno a ricoprire ruoli importanti nella nostra nel nostro futuro asset quali gli innovation manager gli esperti ICT di tecnologie per il lavoro collaborativo da remoto per esempio o esperti di tematiche ambientali e finanziarie innovative oppure diciamo profili manageriali che gestiranno proprio appunto la sostenibilità in senso stretto e anche farò anche forme miste come giuristiche studino nuove regole sia per il lavoro che per il business in questa nuova realtà perché anche questi campi devono essere sviluppati di pari passo insieme al business l'altro quanto la formazione continua e l'alta formazione di cui per esempio Wear Academy la realtà di cui diciamo noi facciamo parte devono accompagnare il processo di gestione dell'innovazione nelle imprese ma nelle organizzazioni e anche nelle pubbliche amministrazioni da un lato sarà necessario formare i manager i dirigenti che andranno formati per primi perché da loro che partirà l'impulso che permerà con una nuova cultura organizzativa tutta l'impresa o l'ente ma a seguire a cascata il processo deve riguardare tutti i livelli visto che la partecipazione cognitiva dal basso diventa proprio l'elemento che fa la differenza in questo contesto e per innescare questo processo è opportuno sviluppare tra i lavoratori come si è detto anche prima negli interventi precedenti oltre alle competenze le soft skills necessarie a creare un ambiente coeso e forme di incentivazione insieme a forme di incentivazione specifiche per quanto riguarda noi come Wear Academy che siamo appunto ci occupiamo di formazione alta formazione abbiamo messo in campo tutta una serie di attività volte a partire dai laboratori sulla trasformazione digitale per insegnare all'interno delle imprese ai manager come gestire le nuove tecnologie come farne proprie e riuscire diciamo a servirsi in modo efficace a corsi sempre diretti ai manager come le HSE manager o i corsi di CSR di ESG e di finanza sostenibile quindi diciamo ci stiamo muovendo in questi settori già da qualche tempo la nostra è una nuova realtà ma soprattutto puntiamo nel futuro ad intensificare questo tipo di offerta anche con insieme proprio a Fair Italy con una partecipazione alla costituzione la creazione di corsi per l'economia per lo sviluppo in settori diversi anche dell'economia dell'economia circolare e in ultimo ricordo appunto anche che proprio per sviluppare questa situazione diciamo di miglior coesione che è stata chiamata diciamo di nuova gestione umile dei manager poco fa abbiamo in cantiere di offrire dei servizi al business nuovi servizi di coaching proprio per gestire la transizione sia al digitale diciamo alle nuove forme di rapporto all'interno delle aziende che avvengono in maniera digitale ma anche proprio per sviluppare proprio le soft skill necessarie a creare questa situazione di nuova partecipazione cognitiva dal basso grazie grazie dottoressa Rivi io chiedo alla sua collega Mattia Divini se ha deciso di fare un breve intervento portare la sua testimonianza ora buongiorno buongiorno a tutti non so se mi vedete sì allora no intanto grazie per l'invito e per per gli interessanti temi che sono stati affrontati ci sono tantissimi punti di riflessione che insomma spero che poi ci sarà un seguito diciamo su questa questo a questo evento io aggiungo poco perché Alessandra la dottoressa Righi che collabora con me questo centro universitario che si occupa di formazione alta formazione noi già anche in altri contesti e cogliamo anche l'occasione di questo per insomma sensibilizzare la il pubblico le persone il mondo del lavoro nel sul tema sul tema della formazione sul tema dello sviluppo delle competenze che purtroppo per vari motivi ha avuto anche un freno che non è di peso diciamo da chi offre queste offerte formative ma è di peso da un contesto economico che insomma conosciamo e che comunque poi è stato anche aggravato dalla situazione pandemica e rispetto a quanto ha detto Alessandra non aggiungo altro tranne che comunque il sistema cioè la formazione è sicuramente un elemento che entra dentro a queste tematiche che avete trattato oggi lo trovo assolutamente incardinato nel tema centrale dell'evento siccome è tardi non voglio portare via altro tempo e ringrazio tutti ringrazio gli organizzatori ringrazio il dottor Tortora ringrazio Fer per averci invitato per averci dato l'opportunità di essere anche parte attiva grazie grazie a voi grazie per l'intervento e per la testimonianza abbiamo capito quindi che tutti coloro che hanno diciamo l'onore e l'onore di condurre verso il futuro le proprie aziende che vanno a essere innanzitutto gestitori di persone di idee di talenti io prendo spunto da delle persone che sono attivisti che hanno intervenuto che sono intervenute scusate finora per chiedere da un papo patrocchi quali sono a questo punto le caratteristiche che devono possedere le imprese per essere attraenti a aumentare la propria retention ovvero per attrarre e trattenere persone di valore perfetto si sente sì sì benissimo allora partiamo un po' da quello che è il settore di mia competenza che è un settore diciamo definibile aziendale ma in modo anomalo io sono un avvocato e quindi rappresento in questo momento in questo panel il mio studio legale che si chiama appunto NCTM studio legale è una struttura grande e quindi in questo senso abbiamo sviluppato da quando siamo nati quindi poco più di venti anni fa ad oggi una struttura organizzativa che posso definire di natura aziendale e diciamo in quest'ambito proprio la innovazione e la sostenibilità prima l'innovazione anche dal punto di vista cronologico e poi la sostenibilità sono stati elementi che hanno caratterizzato la nostra azione non voglio dilungarmi perché ovviamente non c'è più tempo anche se parlare del mio studio per me è un qualcosa che mi invita a prendere tempo sintetizzerei questo primissimo momento con due dati il primo è che per cinque anni NCTM è stato premiato dal Financial Times come lo studio innovativo dell'anno e con l'ultimo premio di quest'anno di una prestigiosa rivista inglese The Lawyer che ci ha conferito questo questo award proprio relativamente ad una operazione di un progetto che abbiamo svolto e che svolgeremo anche in futuro con Unicredit proprio basato su quella che è stata la nostra capacità innovativa ecco da questo nasce che le persone che ci sono dietro che correttamente sono stati ritenuti i motori reali dell'innovazione e della sostenibilità le persone che sono dietro questa struttura organizzata che è questo studio legale sono persone che hanno avuto evidentemente dentro di sé il senso dell'innovazione sin dall'inizio e lo hanno mantenuto nel tempo anche rappresentando all'interno della nostra struttura un modello organizzativo che noi riteniamo e che verrà a breve diciamo approvato e che riteniamo che possa portare tranquillamente la struttura a vivere ben oltre i propri fondatori con un modello che tende a valorizzare proprio le giovani leve ora la retention è un qualcosa che noi viviamo costantemente perché noi viviamo di fattore umano viviamo di fattore umano dal punto di vista della produzione e vale a dire gli avvocati quindi i giovani avvocati viviamo anche una retention per quello sempre fattore umano che sono quelle che un tempo erano considerate segretarie ma che oggi sono più che altro delle assistenti in senso tecnico e che sono diciamo necessitano di una specializzazione di un ammodernamento costante e continuo io faccio un esempio anche nell'ambito di quella che è l'organizzazione del lavoro quando siamo nati avevamo tendenzialmente una segretaria per socio oggi abbiamo un assistente che gestisce almeno tre o quattro soci più altri due o tre avvocati quindi diciamo il fattore umano è preponderante e la necessità della innovazione la viviamo e l'abbiamo vissuta dall'inizio sia attraverso una diciamo creazione di un sistema che non abbiamo definito di knowledge management che adesso è troppo sarebbe troppo lungo di scrivere ma che è un qualcosa che abbiamo siamo andati a sviluppare nel tempo e che ci ha portati poi nel 2013 a barare un sistema di gestione dello studio basato anche sul knowledge management e oggi ci ha portato a questa iniziativa che abbiamo chiuso con unicredit che ci consente diciamo di aver di essere stati considerati in modo assolutamente positivo da questa rivista specializzata quindi la necessità e questa capacità di innovare e la capacità anche quindi di essere sostenibili non mi dilungo su tutte le misure che noi abbiamo adottato negli ultimi anni e che magari sono sicuramente ancora insufficienti ma che danno conto della sensibilità che stante l'innovatività avvertiamo anche sul profilo della sostenibilità è sicuramente un elemento immateriale sotto certi aspetti che noi mettiamo in parallelo rispetto ad altri elementi di carattere materiale ma che non fanno parte di questa occasione di incontro per far sì che il giovane che è poi ovviamente la leva di quello che verrà fatto dopo di noi avverte come attraente e che lo induce anche a orientarsi verso il nostro studio proprio perché è uno studio che offre al giovane quei tools immateriali che però fanno nella struttura e nella maglia che tende ad indossare un elemento di vanto questo in estrema sintesi quello che posso dire sulla domanda che mi hai fatto grazie ringrazio la vostra quattro occhi ringrazio nuovamente tutti coloro che sono intervenuti qui lascio la parola a Marco Dutra per le condizioni ringrazio 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 Grazie a tutti